Siamo in live per giocare ad alcuni giochi della Switch Non mi è arrivata la notifica Tra cui No Luca ci sono io da quella parte Sono io il protagonista Sono io il protagonista Sì perché io non posso fare le live ragazzi La Switch è mia Sì però chi è che Zitto Luca devo fare io quello come la Switch Chi è che fa più kill nel gioco? Zitto Vabbè ragazzi Ora mi è arrivata la notifica Quindi è entrata in live Ah è vero sono sul mio account Deve cambiarlo Il bello di diretta signori Luca ho un'idea Rex look vieni qui Mettiti lì Tu su quella sedia lì Io metto qui a noi così guardo pure il tuo mente E quant'altro Anche se dovresti mettere il tuo nome Sì appunto la live Vabbè Ragazzi si vede anche un pezzo di stanza Però tanto è tutto buio Vai Ok questa qui ragazzi è una storia Che Luca non metterà mai È una storia dei bulli Luca Cosa? Metti pronto Ok Sono già qui Mamma mia Mamma mia Ah vero me lo ricordo Doveva picchiare i bulli qui ragazzi Vieni spedendo Perché? Cosa stai scrivendo nella tua live? Dai nel mio cellulare Prima Aia Ah ragazzi comunque io sono quello blu Cioè sì quello blu Quello arancione Io sono quello blu C'è forse qualcuno a guardarla la live Ma perché la chat non si vede? No Ok Scusate ragazzi per vedere la camera Come si fa a vedere la chat? Visto tu lo sai? Perché non so Ma come non lo sai? È la prima volta che faccio una live Che non è da play Perché tu non hai fatto una live da play? Sì figro e umuriaco Chi l'ha guardata? Nessuno Infatti l'ho staccata subito Perché l'ha capo un botto Ragazzi comunque se sto gioco lo volete installare È da Switch E si paga anche Cioè in realtà non lo so quanto si paga Non mi ricordo L'abbiamo comprato anni fa Secondo me 5 euro Secondo me di più Forse era da 1 euro Io vorrei vedere Sì se non gari vieni Che se non vai tu Non posso andare avanti Devo guardarla anche la chat no? Ma brutto l'efficienza C'è il tuo telefono lì Hai ragione Metto anche il like 17 iscritti hai Lo so Non vedo tu La pentola della nonna Il medico è usato Yes era lì Non l'ho visto Questa è mia topia Mazza contro mazza Ragazzi comunque Sai cosa fa la mazza? Sai cosa fa la mazza? L'ammazza Esatto Comunque ragazzi Se non l'avete capito prima Io sono il giallo E lui è blu Legend è arrivato Ciao Legend Come stai? Tutto bene? Legend Lo sai Buh Legend ci sai? Vabbè Non so come la live Ho un po' di ritardo Come noi insomma Comunque se vuoi giocare con noi a Fortnite Sai già cosa devi fare Se vuoi fare il provino per il team Non puoi Perché siamo in due team diversi E' vero Però Vuoi fare il provino per il mio team Cioè vuoi scegliere un team su quale fare il provino Se è quello di Simon O è col mio Io più iscritti ti dico Se per questo io ho team più forte Vabbè Nel frattempo mi arriva Come un messaggio Che cazzo? E poi te l'ammazza E li ammazza Sì ma sai che un messaggio Ah Io sono il capo del team di Luca Legend Legend Dario si chiama Legend su Ah ecco Ecco dove l'abbiamo sentito Ciao Dario Non l'avevo mai capito Nemmeno io Ecco dove l'avevo già sentito Oggi mi ha inviato Dario il video Ecco Ma infatti io non l'avevo capito Io l'avevo già sentito leggendo da qualche parte So che non mi è venuto il meglio Ma che ho sé Vabbè alla fine Luca non ne fanno Mi dispiace Sì sono Dario Ciao Dario se vuoi durante la live Giochiamo anche a Fortnite Forse Se entri Tra un po' giù Cioè se Se volete Tra un po' giochiamo a Fortnite E tanto possiamo parlarti E nel mentre sentirti Perché abbiamo due switch Quindi Simone parla E io parlo dal Cioè Simone ha il microfono Io faccio Sì basta fare questo affari qui Che roba il Il dash è fortissimo Lo dice pure il sensei È fortissimo È instoppabile Luca Luca laurenti Dopo questa io chiuderei la live Senato stanco Ma qua Ancora discorso È Luca laurenti Ma si vede il segno di Mobizen No Ma hai stoppato la live No L'hai stoppata tu Scusa un attimo Ho finito Spazio Dai Luca No Eppure lì No no ok Hai cambiato video tu Ma non so perché Da me si era stoppato Signori Non c'è nessuno in live Siamo una copia A stoppavolta No perché non mi va I miei domande Stupido gioco Qui non va I miei domande Shhh Zitto Dobbiamo fare pubblicità Molto creativa Ah sì No non dobbiamo fare pubblicità Però a me piace Quindi non vuoi Non vuoi criticare John Cena And his name is Mario Oh c'è uno in live Chissà chi è Dario Come Dario Baccigalupo No no Dario Legend Ah ragazzi comunque questo qui E il mafioso che usa la pistola Un mafioso che usa un fucile Perché ti farò una feccia Che non vuoi giocare Le vuoi giocare Spoiler Bene Tantanotte Vabbè ragazzi Qua è divertente Perché li mani Mentre sono fuori Dallo schermo Bella Con un pugno a terra E vabbè Sì Sono andato apposta Ragazzi Lì eh Io sono bello giallo Sono andato apposta Lì eh Non è perché questo gioco A volte non rispetta i comandi Non mi rispetta i comandi Io stamattina ci sono morto Perché non rispettavo i comandi Aspetta Tu hai giocato Mentre tu dormivi Con il mio gioco? No Ah no Era ieri Stara mentre giocavi con gli assi Aia Mi sono messo a fare una partita Aia E vedi che usa la pistola Mi sono i pallini Allora Poi ci sono I pallini gialli Allora Mammà Vi prende Vi lancio Mamma mia Mi ha dato un calcio Che è volato Comunque ragazzi Questo gioco è molto educativo Perché Picchiamo i bulli Perché ti dice Se uno ti picchia Non andarlo a dire i grandi Picchiano le tue conseguenze Non fatelo a casa Esatto Don't try this at home Perché a volte non ce li fa lanciare? O fagi Comunque ci sono tre persone in live E tu nemmeno guardi la ciossa Perché non ci sta scrivendo nessuno Brutto credito Oggi c'è il ninja Dobbiamo melare il ninja No meno io il ninja Tu pensa agli scagnati Sono io Senti chi è Naruto? Sono io Ma che Pensavo fosse più forte Sì appunto Ma l'ho menato Tal mezz'ora io Quindi Che vuoi? Cosa vuoi? Ah No Che cacchio Ma vuoi? Ma tua madre? Raga Non traduciamo Perché non ci abbiamo voglia Ma ha detto Sei scarso Qua Il sensei Dai mi fai schifo Sensei fai schifo Era tutta una prova Che schifo Fai schifo Non era tutta una prova Sì No l'avevano rapito Ma era una prova No Ha detto che era una prova Tu non lo sai in inglese Sì certo Ha detto che era una prova Per vedere se sapevo fare il karate kid Il karate Nel karate succede ancora Perché c'è Alessandro Che nemmeno specifichiamo chi è Luca Quale c'è un bel chat che almeno io le leggo Ma non sta scrivendo nessuno Secondo te io sono stupido Sì ma almeno io le leggo le cose no Questa è scema Va bene Nel caso C'è qualcuno Io lo leggevo comunque E poi se tu lo leggi vuol dire che non ti stai impegnando nel gioco Come vuol dire? Che non ti impegni abbastanza di più Deve guardare per scrivere un fan no? Ma se non le guarda nessuno Le nostre live Chi ci caga? Ci sono altre persone Sì di cui una se tu e gli altri due Sono Dario e Micheal Sono Dario e Micheal No sarà Sarà Dario e Micheal Allora scrive un chat Vabbè Dario si vabbè Ma Micheal si è due chat Allora è Alex No Alex scrive un chat Allora è Micheal Secondo me è Alex Che si sta facendo un altro account Per farci un troll Perché ora registreranno le live Noi O per il troll che io abbiamo fatto Che io ho fatto Che tutti voi non sapevate Eh già Nemmeno tu Eh già Sì certo Solo che conoscevi l'account Dario e Bacigalupo Quindi Oh vado picchiare a me il ninja E' bello picchiare il ninja Ok Allora non è una prova scusa E ma va? Io avevo capito che era una prova Quella è perché sei stupido E non sai l'inglese Fuori dallo schermo ti ho detto Che devo menarti Senza che nessuno si vede Nel senso che nessuno ci vede Appunto Così 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 appena esci Boom Due pugni E c'è il K-O Dai Non ti dorme adesso Cosa vuoi che ti facciano Tanto quando schifo Dai Non sape Non è che quello che io ho fatto Dai Io voglio prendere Con la presenza Ah io questo picchia Questo picchia Questo è perché si Ha il martello Quello Attento I mortori hanno il martello Uno aveva una catena Però non lo troppano Ma va Sono in cosicchese Perché hai mai visto Quelli con il cappello Troppare il fucile Tu vuoi una chewing gum È una gomma da masticare Infatti tira la sui denti Ahia ma brutto pezzo di cane Scommetti che l'altro è proprio Ale Ragazzi Ma dai perché non rispetti i comandi Ma schifo sto gioco Luca Io la leggo La c'è a te Sta leggendo Non mi ha scritto niente Ok Ragazzi a volte Non rispetti i comandi Sì ma Succede raramente A me non è mai successo Perché sei il player 2 Magari perché è il sensei Che ci comanda Sì Facendoci andare Sempre a sinistra Ovvio Ah perché mai Perché un sensei dice Non dice mai Mai indietreggiare Vero? Prendi la rincorsa Prendi la rincorsa e poi lo vedi Ragazzi scrivete in chat Chi è che dice che un sensei Dice sempre Dice sempre Non dice sempre Non dice sempre indietreggiate Ma torna indietro Prendi la rincorsa e poi lo vedi Non è vero Perché non mi salta nemmeno Perché non prendi il tasto giusto Ma non è vero Morite Muori Aia Non vai Non vai Non vai Corre dentro Tutti 3 stintoni Veramente Puff 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 Aia Aia Batteria Scarica 30 secondi Ragazzi Noi vi salutiamo Qui Ragazzi La live si chiude Qui Noi ci vediamo Ad un prossimo video Bella Bye bye Aspetta